A Taranto il Messina conosce ancora il gusto della sconfitta, c'è un salvataggio sulla linea d'opera di Bellopede, ma poi nella ripresa il Messina deve capitolare sotto i colpi di un Taranto che quell'anno andava davvero alla grande. Il primo gol di testa, il secondo in contropiede dopo aver chiuso un triangolo con un compagno di squadra, 2-0 per i pugliesi.